La polizia turca ha arrestato 20 presunti jihadisti legati all'Isila d'Antalia, una settimana dall'inizio del G20 che si terrà in un resort turistico appena fuori da questa città balneare sulla costa sud-occidentale del paese. I blitz sono scattati all'alba e i sospettati sono stati portati in questura in manette per essere interrogati. Due di loro avrebbero la cittadinanza russa, secondo quanto riferito ad agenzie turche. Per garantire la sicurezza durante il vertice internazionale che si svolgerà il 15 e il 16 di novembre, il governo di Ankara ha intenzione di dispiegare 11.000 agenti delle forze dell'ordine. Una precauzione resa tanto più necessaria dopo i recenti attentati nel paese, dietro i quali, secondo la procura, ci sarebbe il sedicente Stato islamico. L'ultimo di questi attentati, il 10 ottobre scorso, ha fatto 102 vittime nella capitale.